E' compatto, questo è qui tranquillo, ma non duro. Guardate un punto, odiamo, questa acqua, integrate un'immagine di studio, c'è un basso dell'acqua molto pesante. E dobbiamo trasportare questa acqua, per questo punto la sale acqua. 3, 3, 8, sempre dal tango, anche un punto fuori, anche se abbiamo giù, bisogna guardare giù, mantenete queste immagini, ok? 3, c'è, qui, un basso dell'acqua, luce, l'energia sempre, stessi superi, 8, diventa all'inizio grande, lento, poco esce alla fine, ok? E' meglio, un po' più piccolo, più veloce, due test, più veloce, più veloce, sette millime, vita, due test, due test, andate. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS